Abbiamo Francesco e Carola Maugeri, ce li abbiamo? Guardateli qua! Violino, guardate che violino! Buon pomeriggio! Davvero ragazzi, siete una meraviglia, poi siete anche abbinati molto bene come il vestito. Tu da dove arrivi Francesco? Allora, buon pomeriggio a tutti, noi siamo Francesco e Carola Maugeri, io ho 11 anni, lei ne ha 16 e veniamo dalla Sicilia, in provincia di Caltanissetta. Oh, gestisce tutto lui! Io ho 11 anni e quindi questo violino, guarda che bel violino! Molto bello, chi te l'ha regalato? Posso chiedertelo in segreto? L'ha regalato, l'abbiamo comprato. E il papà, papà e mamma. Che dice? Magari vogliamo intervistare pure la tua sorella? Sì, che dici? Eh? Tu ci permetti questa cosa? Perché voi siete siculi, quindi oh, è bugia questo fatto di... Comunque, vediamo un po', passo un po' davanti, vi chiedo scusa. E allora dai, fammi sentire qualcosa, Carola, anche se lui è stato esaustivissimo, quindi ha saputo dire tutto quanto, che cosa ci farete ascoltare? Allora, vi faremo ascoltare I Surrender, è un brano di Isilindio. I Surrender? Quindi poi abbiamo degli assoli di violino, qualche cosa di questo genere. E canterò pure. Canta pure, quindi lui, guardate, è davvero un artista a tutto tondo. E allora, questo duo, in pratica sono due fratelli, no? Quindi Francesco e Carola Maugeri, con titolo? I Surrender. All'Io Box 2024, vai! All'Io Box 2024, vai! All'Io Box 2024, vai! All'Io Box 2024, vai! To Costa Rica, vai! No, no, no. 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 No, no.